Conoscete tutti l'obiettivo L'araldo di Shiva E solo l'araldo Come sappiamo che la ragazza sarà con loro? La nostra gente non discute gli ordini Li esegue Sergente Hanno evocato l'Akon Un Akon Di quelle dimensioni Il nemico non rinuncerà facilmente a Cristallo Madre Sarà uno scontro amaro Non dovresti stare all'aperto Ne abbiamo già parlato Vieni Joshua Tuo padre ci aspetta Io sono lo scudo di Joshua Ho giurato di proteggerlo Vi rifiutate Come sarebbe a dire Avevate giurato fedeltà alla nostra causa Che importanza ha? Sono stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei regni gemelli O sbaglio? Senza la benedizione del Cristallo Madre Non possiamo difendere il nostro regno dalla diffusione della piaga Dunque hanno mandato i dragon Verni imperiali Davvero intendono invaderci? È il figlio dell'Arciduca La Fenice Joshua Fermati Un altro Econ del fuoco Ma Non è possibile L'eredità dei cristalli Ha plasmato la nostra storia Per troppo a lungo Ti prego Joshua Svegliati Ti ucciderò Forse l'ultima cosa che faccio Allora